Grazie a voi di essere qui e di condividere, perché è arrivato un tempo diverso, è arrivato veramente un tempo diverso, di stare uniti, di unire le forze e di compattarci perché uniti siamo tutti più forti, siamo tutti più incisivi e impattanti. Ho preso qualche frase da questo testo e la vorrei commentare velocissimamente con voi. Questa prima, l'obiettivo, qual è l'obiettivo? Perché siamo qua? Perché siamo qua? Una delle cose che dobbiamo, è nostro dovere imparare e a conoscerci, perché se non ci conosciamo non possiamo amare noi stessi e non possiamo nemmeno offrire in dono l'amore agli altri. Quindi il nostro primo compito è conoscerci. Per cosa? Per essere la tua, di ognuno di noi, versione migliore. Che cosa ci dice questa versione migliore? Significa che ognuno di noi ha il suo cammino, il suo percorso, ha le sue tappe, ha le sue esperienze. Non c'è un cammino uguale per tutti. Però scegliere di essere la nostra versione migliore dovrebbe far parte della nostra quotidianità tutti i giorni. Quando invece purtroppo passiamo molto del nostro tempo a lamentarci, ad accusare, a giustificarci e a giudicare. A giudicare e a sentirci anche intrappolati dal giudizio altrui. Cerchiamo il consenso, cerchiamo il riconoscimento, è quasi ossessivo. E questo accade perché non conoscendoci, non conoscendo pienamente il nostro valore, temiamo sempre che qualcuno da fuori possa influenzare, influenzarci. Quindi veramente il grande obiettivo è conoscere noi stessi. A volte siamo stanchi, è vero? A volte ci sembra tutto pesante, ci sembra tutto difficile, è confuso, abbiamo paura, ci sentiamo nel limite. Però possiamo scegliere di avere un'attitudine. e l'attitudine che dovremmo scegliere quotidianamente, tutti i giorni, è quella che il meglio sta per arrivare. Perché se noi ci poniamo con i nostri pensieri, con tutto il nostro essere, verso la vita, pensando che ci abbraccerà, che ci darà qualcosa di buono e di bello, e aspettandoci sempre, anche dietro l'angolo più buio, anche dietro l'angolo più buio. E molti di voi sanno la mia storia e quindi ve lo posso dire per esperienza personale. Anche dietro l'angolo più buio ci può essere veramente tanta luce. Però è una scelta. Non possiamo permetterci di scivolare nel buio, nel buio, nella confusione. Per più di tanto un po' va bene, dobbiamo accogliere anche questo, dobbiamo accogliere anche la parte più pesante, più apparentemente negativa che ci accade nella vita, ma poi dobbiamo riscegliere ogni giorno, ogni giorno. Qui dice il segreto è dentro, non cercare più là fuori. E qual è questo segreto che sta dentro? Questo segreto che penso sia il segreto della vita, veramente, se lo accogliessimo tutti. Accogliessimo il fatto che tutto che noi siamo i creatori e creiamo da dentro. Creiamo come? Creiamo con i nostri pensieri, creiamo con la nostra attitudine che ho detto prima, creiamo con le nostre scelte o non scelte. Tutto parte da dentro. Il segreto è dentro. Perché noi siamo i creatori da dentro. Non c'è niente, nemmeno questo teatro che non sia stato costruito senza che qualcuno lo abbia immaginato prima, lo abbia progettato. E tutto questo sta dentro, sta nella parte nostra dell'invisibile. Progetti, idee, intuizioni, sta tutto dentro. E questo è quello che dobbiamo coltivare maggiormente e che dobbiamo conoscere. Perché se lo conosciamo e vediamo che non è in equilibrio, non è in armonia, possiamo correggerci. Ma se non siamo attenti, se non siamo svegli, non possiamo fare niente. Siamo in balia dell'esistenza e può accadere qualsiasi cosa. Lascia andare il passato. Cosa vuol dire lascia andare il passato? Tante volte rimaniamo abbarbicati al passato. Continuiamo a ripetere le stesse esperienze. Ancora, ancora, ancora. Pensiamo che siano diverse, perché le incontriamo con volti diversi. Ma in realtà sono sempre la stessa cosa, perché noi abbiamo delle lezioni da imparare. E finché non le impariamo, la vita ci ripropone continuamente lo stesso tipo di lezione. È tempo di ricordare chi sei. Qual è la tua missione? Qual è la missione? Qual è il sogno dell'anima di ognuno di noi? Io vi dico che, ancora di più, dopo che mia figlia è mancata due anni e qualche mese fa, ho trovato qual è la dimensione che mi consente di stare dentro e di stare centrata e di stare in apertura verso l'esistenza. E questa dimensione è quella del silenzio. Facciamo un po' più di silenzio dentro di noi, troviamo dello spazio per noi, ascoltare il silenzio, il nostro silenzio interiore. Meditazione, preghiera, ognuno poi scelga quella strada che vuole, ma certamente per trovare la vera missione nella propria vita bisogna fare silenzio e ascoltarsi. E' tempo di cambiare dentro di te per tornare a creare ciò che è bene per te e per tutti. L'ho anticipato prima, non possiamo pensare più di creare solo per noi stessi. Noi siamo qui con e a causa di tutto, di tutti. Quindi la bellezza che dobbiamo abbracciare della vita è di creare qualcosa che abbia un senso anche per gli altri. Io almeno questo è quello che perseguo e mi fa stare molto bene. Mi fa stare bene che voi siate qua, mi fa felice che voi siate qua, perché tutto lo sforzo di un anno, da un anno all'altro, è per arrivare qui ad avere voi. Adesso vi voglio dare solo tre chiavi. Sorridi, condividi, perdono e lascia andare. Tre chiavi vi do, perché sono quelle che uso io e funzionano, quindi ve le propongo. Una, perdono. Abbiamo avuto qui il massimo esperto a livello internazionale della cura del perdono Daniel Lumera e il perdono è veramente un dono che possiamo fare a noi stessi, altrimenti rimaniamo abbarbicati al rancore e ci fa solo male. Non è utile a nessuno. Perdono. L'altro elemento è gratitudine. Gratitudine. Ce ne dimentichiamo troppo spesso della gratitudine. pensiamo che sia qualcosa che dobbiamo essere grati ogni tanto. No, dobbiamo essere grati di ogni respiro, ogni santa mattina che ci svegliamo e respiriamo. Dobbiamo essere grati all'acqua che abbiamo, dobbiamo essere grati alla famiglia che abbiamo. Tutto, perché comunque l'abbiamo scelto. L'abbiamo scelto. A meno questo è quello che penso io, è la mia opinione. E la terza parola è scelta. Scelta ogni giorno, ogni singolo giorno. Che pensieri voglio nutrire? Voglio stare all'inferno, che è già qui, e quindi alimentarmi di paura, di limite, di dubbio, di rancore, di rabbia, oppure voglio stare di qui in paradiso e alimentarmi di pensieri belli, di armonia, di pace, di amore. La scelta. Perdono. Gratitudine. Scelta. E ve ne do un quarto. Una quarta chiave. Io la chiamo amorevole di stacco. L'amorevole di stacco è importantissimo. Questo è quello che ho maturato dopo che mia figlia se ne è andata ancora di più. Noi siamo abituati a voler controllare tutto. Poi la vita mi ha dato un tale schiaffo in faccia che ho capito che non potevo veramente controllare niente. L'unica cosa che posso controllare è quello che cerco di fare tutti i giorni e che vi invito a fare. È controllare i miei pensieri. Controllare dove vanno i miei pensieri. Dove si dirigono. Da che parte li sto posizionando. Questo è, secondo me, è anche dare fiducia alla vita perché lascia andare, lascia andare che la vita ti verrà incontro. Fidati dell'esistenza. Io mi sto fidando tantissimo dell'esistenza. Ho abbandonato quell'esigenza di controllo che avevo e da allora la vita mi sta venendo incontro in mille modi ed è meraviglioso osservare questo. Finisco con come è finito il video. Siamo uno. Siamo uno con la vita. Siamo uno tra di noi. Siamo uno con la natura. Siamo uno con l'esistenza tutta. Non c'è separazione. Non c'è nessuna divisione. È qualcosa che dobbiamo alimentare la coscienza che davvero siamo uno. E allora io adesso qui, da questo palco, faccio un appello. Faccio un appello a tutti voi. Non vi chiedo di alzare la mano. Non vi chiedo di alzarvi in piedi. Perché è una scelta che se vorrete farete individualmente dentro di voi. Vi chiedo di prendervi la responsabilità, qui, ora, adesso, di fare la vostra parte al meglio. Perché se tu, 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 tu fate la vostra parte al meglio, tutti insieme saremo veramente molto più forti, molto più impattanti e molto più incisivi per creare un mondo migliore che tutti sogniamo. Grazie. 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 Grazie.